Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archive Parla e finalmente abbiamo qui il primissimo trailer per fare Buzz Zeta e di questo ne sono veramente molto molto contento. L'ho visto subito appena uscito e infatti ero lì in streaming alle 7 in punto di sera a ricaricare la pagina Treyarch di Twitter, ha infatti uscito fuori finalmente il video, è uscito anche ovviamente su YouTube, ha qualità molto molto alta e sono riuscito più o meno a analizzare fin da subito un paio di cose interessanti, ma oggi siamo qui per un'analisi veramente molto molto dettagliata per capire praticamente tutto quanto. Se ancora non l'aveste visto, è questo il trailer. I'm still in the field. I have to meet a contact. I am not proud of everything I have done, but I am proud of what I am doing. Omega must be stopped, no matter the personal cost to people like you and I. No, my friend. They are the ones who are going to pay. They have already opened their new worlds. Ravanoff, my team's reached the village. Requiem, welcome to Vietnam. We have to get out of here now. On the move. On the edge! I'd pick up the pace if I were you, for Max's sake. Yeah! If you're lying to me, if you betrayed her, if any harm comes to her, I will kill you myself. Quindi partiamo un pochino dal principio e dobbiamo fare un'analisi veramente, non dico frame per frame, ma quasi, perché è una cosa che molto spesso faccio, cercando di capire praticamente tutto quello che si può. Per quanto riguarda la storia, ovviamente Samantha si è recata a far bezeta all'outpost 25, e come era prevedibile, Ravenov è appunto soldato infiltrato, che dicevano essere praticamente quello inflessibile, impiegabile, estremamente patriottico e fedele all'Unione Sovietica, invece lui è appunto quello infiltrato che sta passando informazioni a Samantha e di conseguenza a Weaver e il gruppo Requiem. Loro quindi sono già in questa zona e cercano praticamente di vendicarsi per quello che hanno fatto, praticamente uccidendo tutti quanti gli altri compagni tra infiltrati e non infiltrati, e anche Samantha ovviamente è ricercata. Proprio riguardo devo ammetterlo che gli accenti sono veramente assurdi, perché Ravenov è russo, Samantha è tedesca, quindi ogni tanto capire bene in inglese cosa stanno dicendo è leggermente difficile. Comunque c'è un piccolo scambio di battute, loro si dicono dobbiamo vendicarci indifferentemente da quello che sarà il prezzo, infatti anche Ravenov dice dovremmo fare qualche piccolo sacrificio, invece Samantha risponde no, saranno loro a sacrificarsi, nel senso che loro moriranno, e in quegli istanti infatti taglia la gola a un soldato che si trova proprio lì nei dintorni, e capiamo che comunque Samantha è sicuramente molto arrabbiata e praticamente sul piede di guerra. A quel punto si accende quindi il teleport, quello che sarebbe il portale etere, e poi per riguardo ringrazio l'unico delta che fin da subito ha fatto notare, ma questo portale etere ha una forma un pochino strana, che ricorda tantissimo quello che sarebbe il simbolo del gruppo 935. La somiglianza devo ammetterlo un pochino, la vedo anche io specialmente di quelli che sono gli incastri di plastica laterali, potrebbe essere una casualità, ma come sempre Trecho non fa male le cose completamente casuali, potrebbe essere un piccolo riferimento. A quel punto Samantha appunto viene catturata da questa mano gigante, che sembra essere la mano di un mostro. Arriveremo alla fine del video per parlare di quel mostro gigante che appunto si vede, ma sembra proprio che in questa mappa ci sono appunto tanti riferimenti magari a Dimashina, quello che abbiamo visto non ancora spiegato per bene, e sicuramente il concetto di etere oscuro, che secondo me è una parte molto molto interessante, in alcuni filmati e registrazioni, proprio che riprendiamo dalle sfide, ci sono diverse cose veramente interessanti e completamente non spiegate per quanto riguarda questa dimensione alternativa. Passiamo quindi al nostro gruppo Requiem, che è sotto il comando di Weaver e il supporto di Ravenov, che è già sul luogo e sta controllando praticamente tutto quanto, la telecamera e un pochino di computer, che sembra quasi Rushmore di Alpha Omega con tutti quanti questi computer, e comunque appunto come al solito il gruppo Requiem si è recato qui sotto il comando di Weaver per recuperare sicuramente Samantha, ma come sempre recuperare le informazioni del gruppo Omega e tutti quanti i loro risultati per esperimenti, test e tutto quello che sta facendo il Dr. Peck. Prima che i nostri operatori prendano il teletrasporto, devo notare che appunto questa che è la zona iniziale che si è vista in alcuni leak, penso che appunto sia proprio la zona, le primissime zone che vediamo dalla First Room in avanti, fino ad arrivare poi al teleport che ci porterà alla zona successiva dell'Outpost 25, dove ci sono le strutture un pochino più grandi, dove c'è la corrente, il reattore etere e tutto quanto il resto. Per quanto riguarda le caratteristiche degli zombie, come ho visto dalle prime immagini, si vede benissimo che siamo appunto in Vietnam e Ravenov stesso ci dice benvenuti in Vietnam, ma più tardi si nota anche che alcuni soldati hanno le tute e il simbolo del gruppo Omega, quindi come sempre alcuni dei loro soldati stessi sono stati completamente zombificati. Arrivando quindi al vero e proprio Outpost che abbiamo visto nelle primissime immagini, anzi il primissimo teaser in bianco e nero, che appunto in parte sembra essere Ascension, ed è una zona secondo me molto molto grande, con la parte centrale tra virgolette dove c'è l'antenna gigante mezza distrutta, che penso che lì sia l'entrata del datacenter, dove c'è anche il reattore etere, che è praticamente la corrente. Altra cosa che si nota veramente poco nel trailer se non ci facciamo caso, è che questa zona è praticamente chiusa da una cupola completamente viola, una cupola probabilmente di etero scuro, che penso ci stia bloccando appunto in questa zona, e forse soltanto tramite gli easter egg possiamo sfuggire, recuperare Samantha e andarcene. Vediamo finalmente quello che sarebbe il boss di Farbazza Zeta, rincorrere alcuni personaggi. A giudicare dalla sua velocità di movimento, che io pensavo fosse un boss molto più pesante e lento, qua invece corre come un matto, mi ricorda quelli che sono alcuni dei boss di Isola delle Tenebre, una mappa di World War II zombie, dove appunto sono questi specie di piccoli zombie con una lingua gigantesca, che tolgono tantissimo, e sono estremamente veloci, e li arrivano soltanto quando c'era appunto la nebbia, ma sono boss veramente molto molto forti, e difficili da sconfiggere, perché appunto veloci, in parte resistenti, e tolgono veramente tantissimo. Quindi sono davvero molto molto curioso per quanto riguarda questo boss, e teoricamente, quale dovrebbe essere il suo nome? Proseguendo avanti, vediamo finalmente questo contenitore con dentro i cristalli Aetirion, completamente gigantesco, che prima è blu e poi diventa viola. Come ho detto prima, sembra essere questo, quello che accende questa cupola gigantesca, che rapidamente racchiude tutta quanta la mappa, e sembra forse essere la corrente. Una volta acceso il Dr. Peck, dice di muoversi, per fare in modo che possa sopravvivere Maxis. Ovviamente intende Samantha, ed è una cosa interessante, perché potrebbe magari esserci qualcosa a tempo durante l'istrego, o qualcosa del genere, o soltanto una battuta per cinematografia e per la storia. Vediamo quindi la zona esterna della mappa, con tutte quante le trincee ricollegate alla giungla. È una zona veramente molto molto bella, con tanti zombie, molto aperta, con anche delle torrette, che non ho capito se sono le torrette robot, del cui baggiamento classico, o proprio delle torrette montate lì sulla mappa, che sarebbe molto interessante. Noto anche diversi edifici con piani superiori, quindi un pochino di verticalità potrebbe anche esserci, e devo ammettere che tutta questa zona mezza distrutta, appunto trincee, filo, spinato, ricorda tantissimo alcune missioni della campagna di Black Ops 1, o Black Ops Cold War stesso. Vediamo poi quella che potrebbe essere la Wonder Weapon di questa mappa, questa specie di AK, quasi un KN, misto Wunderwaffe. Dico misto Wunderwaffe perché appunto l'attacco principale alla canna dell'arma, sembra vagamente quella della Wunderwaffe, ma l'utilizzo è completamente diverso. Secondo me potrebbe essere un assalto molto forte, e come colpo sotto canna appunto, questo sparo di questa piccola orb etere, che una volta che ci spariamo dentro, esplode, e uccide tutti quanti gli zombie nell'area d'effetto, che sembra essere molto grande e molto molto potente, e sono estremamente curioso di quest'arma, che devo ammetterlo sul momento e ho detto, ok molto bella ma mi ricorda qualcosa, e qualcuno già in passato quando è uscita l'immagine di Season 1 Reload ha fatto notare, perché quel personaggio, quell'operatore, c'è in mano quest'arma, veramente stranissima, sembra un KN, quasi Wunderwaffe, ed è proprio quest'arma di Fireball Z. Vediamo inoltre i salterini che abbiamo visto in alcuni dei fumetti teaser, diciamo che abbiamo parlato nel video di ieri, dove appunto si dà questo soldato che veniva sparato contro un cancello e moriva, e appunto questi salterini ricordano tantissimo quelli di Moon, per fare un esempio, e ci si può muovere veramente molto molto bene, o piuttosto che Moon magari Drysendrache. Ovviamente come era stato mostrato nei leak, questa è la Tombstone, tutto quanto il distributore, molto molto bello, molto dettagliato, non vedo l'ora di vedere il perk sia qui sia su Dimashina. Interessante notare che già ho annunciato in un vecchio blog, che arriva appunto all'attacco al Napalm anche su Zombie, Skillstrick che è già presente anche sul multiplayer, sono curioso di vedere quanto possa costare, e quanto possa essere forte, perché secondo me, un bombardamento al Napalm con tutto quanto il fuoco, in certe sezioni potrebbe essere, non dico fondamentale, ma molto efficace. Vediamo quindi questo zombie pesante, che assomiglia tantissimo a nemici speciali di Gorod Crovy. La cosa interessante è che teoricamente nei primissimi leak di Dimashina, si parlava di un nemico del genere, uno zombie mangler o qualcosa del genere in inglese, che appunto doveva essere già presente appunto in Dimashina stessa, e arriva qui con Firebuzz Z. Sono molto curioso se sarà un vero e proprio boss, come quello di prima, come il Megaton, o piuttosto sono zombie un pochino più corazzato, leggermente più resistente, come erano in Gorod Crovy, che erano un pochino più forti, ma nulla di estremo. Passiamo quindi alla parte finale del trailer, quella forse un pochino più interessante. Questo mostro gigantesco, che è teoricamente il mostro gigantesco che vediamo fuori da Dimashina, in alcuni round molto alti, tipo dopo il 40-50, possiamo vedere fuori mappa questo mostro gigantesco a girarsi per la foresta, che se ne va soltanto nell'etero scuro. Lo vediamo finalmente qua, e molti stanno speculando che potrebbe essere il boss finale dell'easter egg, la boss fight conclusiva. Sarebbe fantastico perché uno zombie molto molto grosso, ricorda tantissimo la boss fight di Final Reich, sempre di World War II, e appunto abbiamo visto che dalla testa spara un raggio di etero scuro potentissimo, e sono molto molto curioso del suo funzionamento, del resto dell'easter egg, sperando che sia un pochino più complicato di Dimashina, e che appunto abbia una vera propria boss fight. Ovviamente concludiamo tutto quanto con Firebuzz Z, Free Zombies Update 4 febbraio, quindi la riconferma ennesima, questo è un update completamente gratuito al gioco, secondo alcune leak dovrebbe pesare 17GB su Xbox, e 10 su PlayStation, quantomeno per la old gen, non so dirvi per la next gen, e arriverà appunto gratis per tutti quanti, contemporaneamente, lo ripeto più e più volte, perché purtroppo alcuni ancora non hanno capito al 100%, quelli che sarebbero i DLC, contenuti aggiuntivi di Black Ops Cold War, hanno già annunciato che teoricamente, a parte alcuni leak un pochino più strani e discordanti, saranno completamente gratuiti per tutti quanti i player, senza alcuna limitazione. Qui ragazzi, questa era un pochino la mia analisi per quanto riguarda il trailer di Firebuzz Z, come detto all'inizio del video, sono molto molto contento di questo trailer, ci sono diverse cose molto interessanti, e come immaginavo qualcosa di un pochino più cinematografico, di gameplay, c'è il giusto, e forse potrebbe uscire qualche altro dettaglio, appunto un gameplay trailer, i primissimi giorni magari di febbraio, poco prima del lancio della mappa. Manca veramente pochissimo, circa 5-6 giorni, per cui non vedo l'ora di innerdare questa mappa veramente all'onnipotenza, non si sa ancora precisamente l'orario di uscita, se sarà magari 10 del mattino, 17 di sera, 19 di sera, qualcosa del genere, appena c'è qualche piccola informazione, sicuramente ve lo farò sapere. Come sempre ragazzi, voglio sapere le vostre opinioni riguardanti questo trailer, io appunto come detto prima, l'ho visto in streaming, eravamo un hype veramente spaventoso, e molti di voi mi hanno anche iscritto su Instagram, ho risposto veramente a tutti quanti, l'hype secondo me cresce veramente tanto, sono davvero molto contento, e se continuano così per le prossime mappe, le prossime season, e tutto quanto il supporto di Cold War, io ne sarei veramente contento, sarebbe un gioco veramente completo. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, come sempre in descrizione trovate il link al trailer originale, se volete vederlo nella sua interezza, anche se vi ricordo alcuni accenti sono un pochino difficili da capire cosa dicono in inglese, in descrizione trovate anche il link per i miei social che vi do a seguire, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, dite seguimi anche a questo YouTube, e ci danno come sempre al prossimo video, un abbraccio, ala!